Benvenuti. Il tema della lezione di oggi è la letteratura del Settecento italiano. Il Settecento, il secolo dei Lumi, la grande novità di questo secolo è la diffusione di una filosofia che fu chiamata, fu definita illuminismo e che fu una grande novità nella cultura umana. Oddio, novità. Novità fino a un certo punto perché le idee dell'illuminismo sono già diffuse nel secolo precedente in Inghilterra. Vedete la diffusione delle nuove idee, letteratura dell'illuminismo, ordine, chiarezza, razionalità. Queste due slider compendiano già una realtà culturale dell'Inghilterra di fine Seicento, ma nel Settecento l'illuminismo fu considerato un fatto tutto francese. Basta pensare a Voltaire, a Montesquieu, a Diderot e poi a Rousseau che ha un piede nell'illuminismo e uno fuori. È giusto anche questo perché i francesi diedero alla filosofia illuministica strumenti che non c'erano ancora in Inghilterra. Ora ci può colpire il pensiero che fu proprio l'uso del francese a rendere internazionale l'illuminismo, perché allora la lingua internazionale, quella che tutti parlavano e capivano in Europa, era il francese, non l'inglese. E poi i francesi, Voltaire in particolare, avevano una capacità divulgativa, ma anche una capacità di interessare il lettore, perché erano sapi delle loro opere, straordinaria. Insomma, in parole povere, l'illuminismo nasce in Inghilterra, ma viene battezzato in Francia e viene diffuso in tutta Europa dai francesi. Cos'è la base dell'illuminismo? È il culto della ragione. Questi sono i lumi, i lumi della ragione, la chiarità che dissipa le tenebre e porta ordine, sicurezza e, per l'appunto, razionalità intorno a noi. La ragione illuministica è una ragione naturale. Si pensa che l'uomo debba collegarsi, tornare a ritrovare questa sorta di naturale razionalità, per cui i grandi temi della cultura umana vanno rivisitati proprio alla luce di questa naturale razionalità. E i frutti dell'illuminismo sono straordinari. È chiaro che si sono trovate anche dei difetti nell'illuminismo, per carità, questo capita sempre. Si è parlato di una certa astrattezza illuministica, ne hanno parlato i romantici, ma io direi che i frutti positivi dell'illuminismo sono incomparabilmente maggiori. L'illuminismo cambia la condizione dell'uomo nel mondo. Quelle tre parole che poi furono, per dire così, il motto, stavano sulle bandiere della rivoluzione francese, libertà, egalità, fraternità, libertà, uguaglianza e fraternità, sono proprio elaborate dalla filosofia del Settecento, illuministico. Libertà, cioè l'uomo è libero. E' proprio il secolo in cui viene sancita addirittura l'abolizione della schiavitù in Europa. La prima volta era successa in Inghilterra, ma ora si dà una ragione, una ragione a tutto questo. Libertà, egalità, l'uguaglianza in un mondo di diseguali. C'è un aneddoto che forse più di qualunque discorso ci fa capire Voltaire. Pare che Voltaire fosse venuto una volta durante una discussione a una certa animosità, a un contrasto con un marchese, il quale per umiliarlo a un certo punto gli chiese «Ma mi dica un po', qual è il suo nome?» Umiliarlo perché Voltaire era di origine piccolo-borghese. E Voltaire diede una risposta eccezionale, straordinaria. François Arouet Lejeune, la cui l'anagramma Voltaire, «Io sono il primo del mio nome, come lei è l'ultimo del suo». Non c'è male, eh? Quindi l'uguaglianza sancita dal fatto di essere tutti uomini e la differenza sancita dal fatto di essere quell'uomo lì, capace di quelle cose rispetto ad altri che non sono capaci. Quindi abolizione, almeno teorica naturalmente, dei diritti del sangue e fraternità. La filantropia dell'illuminismo, proprio perché siamo tutti uomini, non solo delle disuguaglianze sociali, ma anche le terribili condizioni delle classi inferiori, quelle che non considerate proletariato da allora, il popolo, vanno sanate. E quindi, diciamo, questa tendenza pratica dell'illuminismo, più che speculativa, esiste una speculazione illuministica, ma l'illuminismo soprattutto era un movimento culturale che voleva cambiare il mondo e, diciamoci la verità, che in parte, almeno in buona parte, lo fece. A questa idea della realtà corrisponde naturalmente una fioritura culturale che esprime questa idea e alcuni di questi prodotti culturali costituiscono il fiore della letteratura europea. Ma noi dobbiamo parlare principalmente della letteratura italiana. Ebbene, anche la letteratura italiana ha delle personalità nel Settecento di valore europeo e comunque di grandissima capacità artistica. La letteratura dell'illuminismo ha questi, diciamo, questi imperativi che sono poi di tutto l'illuminismo. Ordine, chiarezza, razionalità. Questo che significa? Significa principalmente, chiudiamo con il barocco, è proprio della fine del Seicento, l'anatema contro l'artificiosità intollerabile, la stravaganza del barocco. E si vuole una letteratura più ordinata, meno stravagante per l'appunto. Si comincia con la Francia. In Francia c'è un'arte poetica che viene scritta da un poeta francese, Boileau, il quale praticamente è un manifesto della letteratura, dell'arte, della poesia, come la concepiva la mente di un letterato settecentesco, di un letterato illuminista. Appunto, ordine, quindi uno stile più semplice, niente stravaganze, chiarezza soprattutto. Bisogna capire immediatamente quello che si legge. non è necessario di arzigogolare troppo intorno al tema, e appunto razionalità. Razionalità vuol dire semplicità, immediata capacità di comunicazione. E diciamo che, eccolo qua, la prima espressione, i poeti di cui parleremo sono più o meno contemporanei, gli artisti che parleremo, diciamo la prima, la prima nel senso che il letterato, per definizione, della cultura italiana del Settecento è Giuseppe Parini. Chi è questo signore? Ma, lo vedremo subito, Parini e l'Arcadia, la composizione del giorno, il suo capolavoro, ideologia e struttura del poema, lingua e stile del giorno. Dicevamo chi era? È un umile figlio di contadini, i quali, quindi, ecco, appare nella lettatura italiana un figlio del proletariato, un proletario, il quale, per ragioni varie, fu costretto, naturalmente, andare in seminario per studiare, e poi, quando era in seminario, gli giunse una piccola eredità da una zia, che lo fece suo erede, a patto che si facesse prete, quindi le scamotage di andare a studiare dai preti e poi uscire, non si poteva applicare, e Parini era così povero che dovette farsi prete proprio per godere di questo beneficio. La condizione dei preti nel Settecento, soprattutto dei preti intellettuali, artisti, era molto libera, gli amati settecenteschi portavano praticamente, sì, a parte che non portavano neanche la tonaca, ma insomma, erano preti, ma per il resto erano uomini come tutti gli altri, quindi forse non fu così pesante la condizione sacerdotale a cui fu un po' costretto Parini. La sua vita fu abbastanza lunga e ebbe una prima fase più oscura nella quale Parini, come poeta, è un adepto dell'Arcadia. L'Arcadia era un'accademia fondata a fine Seicento a Roma ed è nominata così perché uno di questi adepti disse mi pare di essere nei giardini dell'Arcadia, l'Arcadia è una regione della Grecia in cui sono ambientati gli idilli pastorali di Teocrito, per intenderci, è un'accademia che vuole restaurare per l'appunto l'ordine, la chiarezza, il buon gusto, la classicità nella poesia italiana e intende un po' tutto questo come l'assunzione di una specie di sceneggiata fatta di pastori, di nymph, ecco il rapporto con Tasso, per esempio con la Minta, e ha anche dei meriti perché effettivamente ci fu una sterzata rispetto agli eccessi del barocco. Le prime poesie di Parini che si firmò Ripano e Upilino, il suo nome arcadico, sono intonate appunto a questi motivi arcadici, ma molto presto Parini comincia a pensare alla composizione di un poemetto, che poi diventa un poema, che chiamerà il giorno. C'è tutta una fase della vita di Parini vissuta come precettore a casa dei duchi serbelloni, dei giovani rampolli di questa famiglia, in cui Parini ebbe la ventura di vedere come viveva l'aristocrazia. Questa esperienza si interruppe bruscamente il giorno che la duchessa schiaffeggiò la figlia del maestro di musica davanti a Parini, il quale prese le difese di questa ragazza e fu gettato immediatamente sull'astrico, ma tutta la materia che confluirà nel giorno era già fissata nello straordinario occhio di Parini. Quindi il giorno è concepito come il giorno, la giornata di un nobile signore milanese e questa giornata è fatta naturalmente di nulla, ovvero di feste, di incontri galanti, di momenti, di toilette più o meno raffinata e Parini si finge, precettore di amabil rito, è molto bella la trovata, cioè finge di insegnare, di guidare, di guidare il suo discepolo, questo giovin signore milanese, verso il miglior uso della giornata, cioè una giornata in realtà vuota di qualunque impegno ma che viene tutta riempita di impegni mondani, galanti, eccetera, eccetera. Questa opera fu talmente cara a Parini che ne pubblicò soltanto una parte e tutto il resto rimase praticamente manoscritto, il vespro e la notte che sono la seconda parte della giornata, non lo pubblicò mai perché scontento, sempre scontento di quel che faceva non finiva mai di correggere. Oggi noi però abbiamo l'edizione completa esunta dai manoscritti per quanto riguarda questa seconda parte. Quindi vedete il mattino, il mezzogiorno e poi vediamo il pomeriggio del giovin signore, il vespro, la sera e soprattutto la notte che è considerata io credo a ragione il capolavoro di questo poemetto. Come comincia la giornata del signore? Beh, intanto comincia piuttosto tardi perché naturalmente lui va in giro tutta la notte e quindi va a letto alle luci dell'alba e si sveglia molto tardi, è quasi mezzogiorno, poi c'è la sfilata di tutti quelli che lo vengono a trovare, arriva il calzo lion, il maestro di danza, il sarto, poi c'è la toilette con l'incipriatura e naturalmente detto così dice che cosa c'è di particolarmente interessante? ma si tratta di una poesia assolutamente straordinaria, si ispira un po' al riccio rapito di Pope in Inghilterra ma poi si sviluppa per delle coordinate tutte italiane sigillata in uno stile di una perfezione meravigliosa con una come si dice con un dosaggio di stilemi cioè di elementi stilistici della classicità che ci è resa perfettamente sopportabile dal fatto che questo classicismo parignano diventa ironico nei confronti del giovin signore per esempio si parla di magnanimi lombi come dire di sangue reale o comunque aristocratico e tutte queste espressioni che sembrano intonate al più vieto classicismo diventano ironiche e quindi sono perfettamente funzionali a questo poema che è un poema satirico ora cosa c'è di illuministico nel giorno non c'è l'illuminismo diciamo così più avanzato anche nel senso sociale della parola e più rivoluzionario ovviamente ma ci sono delle idee di buon senso illuministico perfettamente compatibili col buon senso non ci dimentichiamo che Parini era comunque un prete e se vogliamo anche con la morale cristiana che portano un po' a satireggiare su queste vite sprecate e il giorno è composto appunto da questa parata di vita dei grandi signori milanesi e ogni tanto vengono fuori in alternativa le scene degli umili di quelli che dormono tutti nel loro capano i contadini che si alzano all'alba e che non hanno nulla ma forse un po' idillicamente hanno questo calore familiare che rende più sopportabili le loro esistenze mentre la vita di questi di questi nobili ha dei momenti anche criminali come quando per esempio le carrozze che scorrono velocissime come accade qualche volta nelle notti delle città italiane per le strade di Milano si macchiano di sangue plebeo naturalmente si può investire un povero umile passeggero che magari sta andando al lavoro all'alba e neanche si fermano i nobili perché quello è un sangue plebeo che non costa nulla e che non significa nulla quindi c'è questo movimento di sdegno parignano per questa ingiustizia della società le ultime due parti il vespero e la notte invece attenuano il proprio elemento satirico ma perché? si è cercata una ragione beh ne aveva già profuso parecchio nella parte di cui abbiamo parlato nel mezzogiorno nel giorno una parte insomma diciamo diurna della giornata del giovine signore forse c'è anche un fatto storico a un certo momento questa aristocrazia che aveva una vita straordinaria viene folgorata l'aristocrazia italiana da una notizia è scoppiata la rivoluzione francese la rivoluzione francese come sapete tutti a un certo momento mandò sulla ghigliottina buona parte dell'aristocrazia francese e naturalmente l'impatto di questa notizia correlata da tutta la cronaca di questa esecuzione eccetera eccetera fu tremendo e Parini fu un po' spaventato da tutto questo e probabilmente non se la sentì più di infierire anche se con le armi della satira non aveva mai chiesto che andassero sulla ghigliottina i nobili naturalmente su questa classe che veramente stava perdendo letteralmente se stessa nel senso che in Francia la stavano quasi distruggendo e l'ultima parte la notte in cui si è di scena una meravigliosa festa nella casa di nobili milanesi a cui naturalmente va il giovine signore più che di elementi di critica sociale è tutta pervasa di una meravigliosa sensibilità figurativa e anedotica Parini coglie tutti i moti degli sguardi le toilette delle signore il signore che sbadiglia la seduzione fulminea con il ventaglio che fa una signora in confronto di un signore tutti i cicisbei che erano i cavalieri serventi diciamo così gli amanti ufficiali delle varie signore che svolazzano di qua e di là e c'è una come si può dire un elemento scenografico e teatrale veramente straordinario anche qui si è andata a cercare una ragione culturale siamo nel tempo della filosofia sensistica una filosofia che parte sempre dalla sensazione dalla sensazione ovvero dall'impressione sensoriale e questo avrebbe reso i poeti di questo periodo e Parini in particolare sensibili all'anedotico al particolare all'elemento figurativo e addirittura quasi fisiologico tipo come vi ho detto lo sbadiglio malcelato di un personaggio o quelli che giocano alla morra o la signora che all'orecchio suggerisce qualcosa al suo vicino insomma si tratta una delle espressioni più alte della poesia italiana lingua e stile la lingua è la lingua della letteratura italiana è la lingua più o meno di Petrarca infortita di elementi più neoclassici perché siamo in un'epoca in cui si sta diffondendo un gusto antiquario della classicità un gusto dovuto anche agli scavi di Pompei di Ercolano che erano fatti malissimo dal punto di vista archeologico ma che portavano alla luce dei reperti antiquari dalle collezioni di numismatica per cui si stava diffondendo questo culto dei classici che però permeava anche i mobili gli oggetti di arredamento e naturalmente diventava la classicità anche qui elemento scenografico teatrale una sorta di magnifico travestimento degli eroi della modernità è famoso un quadro di un grande pittore francese Davy il giuramento degli Orazzi in cui la scena degli Orazzi che giurano di morire per Roma diventa addirittura una sorta di input per la rivoluzione francese ma una rivoluzione francese appunto che si veste di fogge teatrali di gusto greco romano per esempio forse anche nei film le avete visto le signore andavano vestite con quelle tuniche o con quei pepli che ricordavano proprio il tempo di Roma e di Grecia e gli uomini rivoluzionari francesi presto cominciarono a non portare più le parrucche le bianche parrucche del Settecento ma si fecero quelle corte capigliature tutte sfrangiate con la fronte tutta libera che erano tipiche dei romani degli eroi di Plutarco e così via ecco un altro aspetto del Settecento Parini ovvero il neoclassicismo Parini la satira Parini una poesia ardua raffinatissima e con momenti di altezza straordinari la commedia del Goldoni un uomo vero di teatro Goldoni Goldoni noi pensiamo a Goldoni diciamo ecco Venezia sì Goldoni però era bolognese di origine questo forse ha avuto certo suo humor una sua bonarietà forse la portava davvero nei lombi come dice Parini la commedia è un punto un dolens della letteratura italiana così come lo è la tragedia nel senso che l'Italia non aveva un teatro degno di questo nome non aveva nulla che potesse far pensare faccio qualche nome a Cornelia e Racine i francesi del seicento del classicismo francese per quanto riguarda la tragedia a un Molière per carità sempre del seicento ma meno che mai uno Shakespeare no perché come era il teatro italiano fino a Goldoni era un teatro costituito praticamente vedete la riforma della commedia e quindi il mondo di Goldoni da un teatro imbalsamato che era quello che si recitava un po' nelle corti e che aveva un pubblico artificiale che non era un pubblico come dice qualcuno nel tempo prezzolato cioè che pagava per vedere il biglietto per vedere la commedia e quindi o la tragedia aveva un interesse autentico ma era il pubblico che circondava la corte del signore questo teatro dà anche delle cose notevoli tipo la mandragola ma certamente si tratta di casi sporadici non parliamo della tragedia la tragedia erano proprio delle delle polpettoni indigeribili intendiamoci cioè la tragedia del cinquecento non si salva al gusto nostro quasi nulla nel seicento invece sono delle cose di un certo livello ma anche qui non abbiamo dei grandissimi rappresentanti ma adesso dobbiamo parlare della commedia allora esiste una commedia vivace una commedia fatta per il teatro esiste è la cosiddetta commedia dell'arte ma il problema della commedia dell'arte è che non aveva dei testi scritti con tutte le parti il testo non esisteva in gran parte la commedia dell'arte era delegata all'estero alla bravura straordinaria degli attori che in genere erano le maschere Arlecchino Pulcinella Dottor Balanzone eccetera questa commedia aveva un successo straordinario lì sì che andava il pubblico prezzolato e a un certo punto si trasferì addirittura a Parigi dove il successo continuò enorme ma l'ambizione di Goldoni era quella di mantenendo la freschezza teatrale squisitamente teatrale teatrica direbbero i cultori di di storia del teatro della commedia dell'arte di ridare a questa commedia di dare a questa commedia dei testi degni di questo nome ecco il primo tentativo di scrivere un testo tutto ma che in realtà fu scritto solo in parte è il momolo cortesano vedete dal titolo venenziano di Goldoni in cui la parte del protagonista era scritta in seguito Goldoni cominciò un po' alla volta a scrivere tutte le parti la commedia era tutta scritta lì e abbiamo avuto i grandi capolavori del Goldoni tutti conoscono ad esempio la locandiera adesso non so se sia il capolavoro di Goldoni certamente è uno dei capolavori di Goldoni come sapete la commedia si distingue dalla tragedia in retorica nella storia anche del teatro nel fatto che il mondo della commedia è un mondo molto mescolato mentre quello della tragedia è un mondo purissimo non ci sono personaggi che non siano grandi nella tragedia principi re pensate all'edipo re di Sofocle per esempio pensate a quel che volete le Sid sono sempre personaggi che vengono o dal mito o dalla storia ma sono personaggi di alto lignaggio nella commedia il mondo è assai più mescolato e prevalgono personaggi qualche volta anche come protagonisti spesso anzi personaggi umili come a Roma la commedia di Plauto e questi personaggi possono essere come nel caso della locandiera per l'appunto una donnetta che gestisce un albergo e in questo albergo guarda caso vanno tre gentiluomini di cui uno autentico ma del tutto spiantato ecco i tempi nuovi il sangue non basta ci vogliono i soldi uno ricco ma di recentissima nobiltà si è comprato il titolo Parini aveva il riso i compri onori cioè di quella borghesia mercantile che aveva fatto molti soldi e si comprava il titolo di Marchese di Duca eccetera eccetera e o di Conte come il caso della locandiera e poi un cavaliere misogino tutti e tre innamorati di Mirandolina la protagonista questa protagonista che è un miracolo anche sociale perché è una donna imprenditoriale è una donna che senza abdicare a nulla di se stessa quindi la propria femminilità anche la propria civetteria ci sono delle scende di seduzione fatte per ripicca nei confronti del cavaliere di Mirandolina che sono straordinarie ma anche l'equilibrio il senso della realtà di questa donna la sua capacità di vedere chiaro e di essere donna ma in un certo senso di essere anche uomo è un testo abbastanza rivoluzionario nella storia un po' smorta della commedia italiana in lingua italiana intendo dal medioevo per quello che c'è fino al al Goldoni e si tratta di un testo che è diventato immortale diciamoci la verità di tutto il teatro fino all'ottocento manzoniano ancora noi vediamo sulle scene Goldoni non vediamo più Alfieri ne parleremo dopo o perlomeno le tragedie di Alfieri a meno che qualche volta non si recuperi per qualche ragione e vediamo Goldoni perché è un mondo ancora vivo è ancora se non è il nostro mondo è qualcosa che ha molto a che fare con il nostro mondo e è quello dell'Alfieri quello del Goldoni scusate è forse il massimo frutto teatrale di una cultura povera di testi teatrali va di moda presso gli snob paragonarlo con Molière e dire ma certo non è Molière certo non è Molière perché Molière è il frutto anche di una nazione e di una cultura che in questo periodo sovrasta la cultura italiana pur essendosene alimentate ai tempi del medioevo del rinascimento ma certamente non è che un ideale podio Goldoni sia tanto al di sotto di Molière è strato di uno scrittore straordinario di uno scrittore che ha costituito ripeto per lunghissimi anni quasi l'unico frutto del teatro frutto vero autentico del teatro italiano vi ho appena nominato Vittorio Alfieri eccolo qua l'uomo nuovo della letteratura italiana perché l'uomo nuovo intanto chi ha dato questa definizione è una definizione del De Santis De Santis è il nostro massimo massimo critico storico della letteratura ha scritto un meraviglioso libro che è praticamente un romanzo della letteratura italiana ma un romanzo non romanzato nel senso che c'è una capacità narrativa straordinaria che è appunto la storia della letteratura italiana l'alfieri ha dei connotati nuovi in un mondo dominato dall'illuminismo ovvero ordine chiarezza ripeto quello che avete già sentito razionalità che poi si traduce nel gusto in una rispolverata quella un po' scenografica teatrale e qualche volta un po' stanca di stilemi classicistici e quindi le opere di Davì in parte il giorno di Parini e tanti altri prodotti questi davvero minori di cui adesso non parliamo l'alfieri si presenta con una personalità che non è più settecentesca del tutto al punto che il croce sempre croce vedete lo definì non pre-romantico ma proto-romantico ecco che differenza c'è fra la dizione pre-romantico e proto-romantico pre-romantico vuol dire uno che anticipa qualcosa di cui però non fa parte perché ancora questo qualcosa non si è storicamente materializzato vi dirò anche che c'è qualche perplessità ricorrente sempre sull'uso dei pre pre-romantico pre-rivoluzionario pre-marzista tutto quello che volete voi perché si dice sto pre è storicamente inadeguato naturalmente forse si è eccessivi in questa cautela serve solo per capire meglio lo sappiamo benissimo che il movimento di cui uno è pre non è ancora realizzato comunque torniamo all'alfieri non pre-romantico nel senso che in luce sono già dei temi romantici ma proto-romantico perché c'è una certa coscienza della novità in alfieri proto in greco vuol dire primo quindi l'alfieri sarebbe primo dei romantici in Italia e anche in Europa probabilmente almeno in certi in certe parti dell'Europa qual è l'elemento romantico o proto-romantico o se volete anche pre-romantico della Fieri è un complesso di passioni indomabili il culto delle passioni una tristezza endemica il gusto della solitudine una smania che lo portava a viaggiare continuamente e a raggiungere anche delle zone dell'Europa che allora era utopistico raggiungere tipo il nord Europa la Norvegia la Svezia l'Inghilterra e così via questi sono elementi di un'inquietudine che non sta tutta nel settecento ma che tende a straripare nel secolo nuovo ecco abbiamo cominciato il nostro ritratto dell'alfieri un ritratto che si diciamo così si organizza letterariamente soprattutto in due opere dell'alfieri la vita che è un'autobiografia e le rime che è una raccolta di poesie dopodiché vedremo rapidamente anche l'altro grande tentativo forse dell'alfieri forse non so quanto realizzato che sono appunto le tragedie ma comunque interessantissimo allora la vita la vita è una cosa che già esisteva l'autobiografia era stata fatta già da Benvenuto Cellini per esempio nella letteratura italiana in fondo anche il secretum di Petrarca è una sorta di autobiografia anche se non si racconta la vita di Petrarca dalle origini no ma si parla del presente ma quello che colpisce della vita dell'alfieri sono varie cose intanto è un'autobiografia che risente della modernità di un'opera che erano le confessioni di Rousseau un'autobiografia che tende addirittura a scendere nei meandri della psiche sono state identificate da critici straordinari come Giacomo De Benedetti anche degli elementi psicoanalitici avanti la lettera prima che la psicoanalisi si affacciasse al mondo nell'opera dell'alfieri in perfetta coscienza di scendere in territorio nascosto anche se lui non usa termini psicoanalitici naturalmente il nostro inconscio il nostro preconscio e quindi non è un'autobiografia ideale Alfieri parla dei propri difetti delle proprie miserie degli aspetti anche meno edificanti della propria vita è mon carmise à nu di Baudelaire cioè il mio cuore è messo a nudo io vi racconto tutto di me anche quello che forse sarebbe meglio che non raccontassi e secondo il sottoscritto ma non secondo il sottoscritto perché modesta questa affermazione per quanto mi riguarda questo è il vero capolavoro dell'alfieri anche perché si tratta di una prosa straordinaria il grande problema della prosa in Italia la prosa ha tante difficoltà che la poesia non ha la poesia viaggia sempre più o meno in quelle coordinate stilistiche retoriche ma la prosa è italiana scrivere prosa è più difficile che fare poesia anche se non sembrerebbe e diciamo che l'alfieri d'intuito non sciarvellandosi in qualche maniera quasi quasi tormentandosi come Manzoni che ci mise la bellezza di una trentina quarantina di anni per mettere a fuoco la lingua dei promessi sposi ci dà un prodotto vivo anche quando le forme scelte sono un po' goff sono un po' letterali anche quando non sa bene che parola usare perché anche anche Alfieri aveva due lingue fondamentali prima dell'italiano che non si sapeva forse bene cosa fosse ancora al tempo perché l'Italia era tutta articolata regionalmente che erano il dialetto natale piemontese lui era di Asti Torino e il francese che era la lingua dell'aristocrazia europea era la lingua degli intellettuali europei ma era un fervente italiano e voleva scrivere in italiano la vita è un po' un miracolo in questo senso le rime le rime sono petrarchesche naturalmente perché tutto a parte il barocco e quindi la rima la lirica marinista che invece infrange tanti limiti di questo petrarchismo endemico della poesia italiana perché si faceva sempre così sono rime d'amore anche queste ma sono anche rime in cui traluce questa sensibilità che settecentesca più non è lo vediamo in una poesia mentre corre su un cavallo Fido il mio destriere non è che il destriere Fido Fido si chiama il suo destriere lungo la spiaggia di un mare invernale quindi un mare turbinoso in tempesta ricorda un quadro di Fidrich uno delle nostre diapositive era Fidrich in cui si vede l'incombenza della natura sull'uomo e la relatività dell'uomo nel contesto della natura in altre rime esprime il suo disgusto per i contemporanei la solitudine ha questo risvolto di orgoglio ma non mi piace il vil mio secolo mai non mi è mai piaciuto il mio tempo e solo nella solitudine tacciono i miei guai quindi la solitudine diventa una compagna altera e cerimoniosa nello stesso tempo una forma di vita non una condanna una scelta una scelta di grandezza anche questo sarà sviluppato dagli romantici ma era già però in Petrarca per la verità un aspetto molto moderno già di Petrarca e in un'altra rima si definisce lui che odiava qualunque potere istituzionale proprio con questa libertà assoluta che gli freveva nel sangue questo anelito della libertà assoluta si definisce pallido il volto in volto come un re sul trono vedete che bella definizione e qui viene spontaneo il passaggio alle tragedie le tragedie che lui recupera da una grande ambizione dei letterati italiani di fare la tragedia moderna non c'era riuscito nessuno riprende temi mitologici o biblici vedi il Saul che è considerato il suo capolavoro ma vedi anche altre tragedie c'è la mirra addirittura in cui il tema dell'incesto l'edipo re è visto dal punto di vista della donna mirra che si era innamorata del padre quindi porta anche delle novità abbastanza inquietanti nella cultura del tempo ma i due protagonisti proprio protagonisti perfettamente bilanciati della tragedia fieriana sono qui il tiranno e l'uomo libero sono l'uno il reciproco dell'altro Saul e Davide ovvero Saul il tiranno Davide l'uomo libero in cui si esprime un profondo anelito dell'anima alfieriana il difetto di queste tragedie se la vogliamo vedere in un'ottica un pochino più moderna è che qui c'è un'enfasi retorica che probabilmente toglie un po' di verità ai testi ma questo è molto discutibile anche questa è un'opinione personale e quindi ognuno si può fare la sua ripeto probabilmente il meglio di sé l'alfieri l'ha dato in quella meravigliosa vita in cui veramente si ha l'impressione di trovare un oggetto nuovo che nella lettatura italiana non esiste la capacità di parlare di cose senza porsi troppi problemi di stile di retorica di convenzioni eccetera eccetera che non significa naturalmente non darsi uno stile e non esercitare una retorica perché sempre quando si scrive ma anche quando si parla implicitamente lo vogliamo o no noi esercitiamo una retorica la fortuna dell'alfieri fu immense fu immense praticamente tutto il primo ottocento è pieno di lui influenzò il giovane Leopardi ci sono le prime poesie di Leopardi pieni di temi alferiani vedi il brutto minore ecco basta il titolo che poi però lo detestò quando cambiò la maniera anche un po' manzoni che invece poi anche lui non lo detestò ma addirittura lo irrise ma il vero erede di Alfieri il suo discepolo ideale anche se sempre si rifiutò Alfieri di riceverlo fu Ugo Foscolo qual è l'opera più alfieriana di Foscolo è il romanzo quasi desordio non è desordio propriamente ma la prima grande cosa che lui scrive le ultime lettere di Jacopo Ortis di cui parleremo in una prossima lezione basta pensare a quell'inizio folgorante il sacrificio della patria è consumato è questa una frase alfieriana di nobile teatralità una frase che fece fremere i lettori giovani lettori di Jacopo Ortis e anche il tema politico è qualcosa che viene dall'alfieri anche se l'alfieri ne parla in astratto mentre Foscolo vive in un'epoca in cui la politica si incarna prima nella rivoluzione francese e poi nella discesa di Napoleone in Italia ma questi ripeto saranno temi di una prossima lezione vi ringrazio oggi per il vostro ascolto e vi rimando come al solito al web per qualunque approfondimento o curiosità questa lezione vi abbia creato grazie